Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere a una delle varie domande che mi fate più spesso, ovvero a volte capita di avere nel momento dell'importazione di un file audio il problema che il file audio sembra avere un'intonazione differente da quella del file originale. Vi faccio vedere oggi quali sono le impostazioni da correggere per evitare questo problema fin dal principio e riuscire finalmente a lavorare nel migliore dei modi. Ok, allora cerchiamo di capire qual è il problema principale per cui quando si importa un suono cambia il pitch in ascolto, quindi non è più nella stessa intonazione che noi abbiamo in partenza. Allora questo accade perché semplicemente noi potremmo avere il progetto impostato con un certo sample rate e il file, quindi potrebbe anche essere un loop o una nostra canzone, è stato salvato con un sample rate differente. I due sample rate principali che si utilizzano più spesso sono 48.000 Hz e 4400 kHz, cioè questi due. Se noi andiamo su Cubase in progetto, configurazione del progetto, andiamo a vedere che possiamo cambiare questa frequenza di campionamento, quindi siamo a 48.000 o a 44.100. Ovviamente per poter utilizzare nel modo corretto il nostro progetto insieme a un sample o una canzone esterna, questi due valori, quindi di frequenza di campionamento tra progetto e sample, devono essere uguali. Questo non vuol dire che non si possano utilizzare nel momento in cui i valori sono differenti, ma bisogna effettuare una piccola operazione molto veloce che ci permette di adattare la frequenza di campionamento. Facciamo un esempio, in questo caso noi siamo a 48.000 Hz all'interno di Cubase. Importiamo un sample che è stato registrato a 44.100. Facciamo questa operazione, quindi lo trascino semplicemente dentro e mi esce fuori questa schermata. Arriveremo dopo a quello che fa questa schermata e come abilitarla. Io attualmente voglio ascoltare il file a 44.100 dentro il progetto a 48 kHz. Accade questo. Ok, questa volta invece vado ad adattare la frequenza di campionamento del file originale al mio progetto. Questa volta invece gli dico di frequenza campionamento da 44 a 48. Ok, sentite il nuovo file audio. Il file audio non adattato invece. Quello invece adattato. Sentite che cambia completamente l'intonazione del file. Allora, come bisogna fare per effettuare un'operazione correttamente per poter importare i file di frequenza di campionamento differente? Allora andiamo intanto nelle preferenze, quindi andiamo su modifica preferenze. Dobbiamo fare in modo che durante l'importazione ci chieda se vogliamo convertirlo. Allora noi andiamo su modifica audio. Quando vengono importati i file audio apri le opzioni. In questo modo apparirà la finestra che abbiamo visto prima. Se faccio usa le impostazioni in modo automatico verrà scelta l'impostazione che noi abbiamo cliccato in questo momento, quindi di copiare il file appunto nella cartella del progetto e di convertire il file se necessario. Questa conversione non verrà fatta se il nostro progetto a 48 kHz e anche il file audio è già a 48 kHz. Quello che accade è semplicemente questo. Nel momento in cui noi importiamo il file dentro Cubase ci apparirà questa finestra. Questo ci dirà ok copia il file nella cartella e poi se necessario vai ad adattare la frequenza di campionamento da 44 a 48 o viceversa in base alle impostazioni di progetto che noi abbiamo e in base alle impostazioni appunto alle caratteristiche del file di partenza. Quindi noi gli diamo ok e lui va a fare questa conversione. Se andiamo nel media bay in apri la finestra del pool, allora noi andiamo a vedere che ad esempio in questo caso qua abbiamo i due file, il primo e il secondo, che sono a 48 kHz, quindi ci sta dicendo che sono stati adattati alla frequenza di campionamento interna al progetto. se andiamo qua vedete che c'è questa modalità, modalità musicale. Anche questa è una cosa che può essere considerata nel momento in cui notiamo che il file audio ad esempio è più veloce in confronto alla versione originale. Cosa dobbiamo fare? Allora se guardate questo secondo file ha questo segno qua, questa ondina con modalità musicale. In questo modo è stato adattato praticamente in modo automatico alla velocità del brano. Infatti se andate a vedere, io ho messo casualmente 120 qua, vedete che è sincronizzato col metronomo. Se andassi a cambiare questo valore del tempo di Cubase, sentite che anche il file audio è molto più lento e però è sempre sincronizzato al nostro progetto. Allora in questo caso qua se non volete la modalità musicale basta andare a premere sulla clip, poi in alto modalità musicale e vedete che in questo modo quando voi cambierete il tempo, vedete che non sarà più a tempo preciso ma semplicemente è sfalsato, cioè il tempo rimane sempre uguale in ogni caso, anche se voi cambiate il tempo di Cubase. Quindi ci sono queste due cose, frequenza di campionamento corretta e modalità musicale accesa o spenta in base alle vostre esigenze. Penso di avervi detto tutto per riuscire a risolvere questo famoso problema che molto spesso si incontra. Ancora una cosa, cosa accade nel momento in cui io mi sono accorto di aver importato un file audio in modo non corretto ma non mi è apparso il pop-up che mi avvisi di cambiare la frequenza di campionamento? È molto semplice, io posso andare nel media, finestra del pool, vedete che qua appunto mi indica che ha 48, se io l'avessi importato 44 in modo errato in un progetto 48 basterà andare a fare il tasto destro, vado a dirgli converti i file e gli dico frequenza di campionamento nuova, quindi trasformamelo a 48. Ad esempio in questo caso io faccio il contrario, vado a farlo a 44, queste possiamo lasciare mantieni, stereo, mantieni, ok. Vedete che mi ha fatto un nuovo file a 44 e 100. In questo modo l'ho convertito da dentro Qubase senza fare un export e reimportarlo di nuovo. Ok, spero che questo piccolo consiglio possa esservi stato utile per risolvere questo problema o magari semplicemente per apprendere cose nuove attraverso questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed abilitare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!